Quali sono i sintomi per i quali si tratta una donna incinta? Ciao, io sono Desiree e lui Emiliano. La donna incinta va spesso incontro a determinati problemi molto specifici, soprattutto a livello del bacino, della colonna lombare, che vuol dire mal di schiena, sciatalgia, dolore all'osso sacro. Ma potrebbe anche essere che, in altri casi, non abbiamo dei sintomi ben precisi, ma ci sono stati dei traumi pregressi, quindi al coccigi, al bacino, per cui è opportuno prepararsi adeguatamente alla gravidanza. Inoltre, ci sono altri sintomi, come reflusso, fame ed aria, che indicano che, in qualche modo, il ventre sta crescendo e sta un po' alterando la biomeccanica corporea. In questo caso, l'osteopatia può aiutare. Come hai affrontato i tuoi sintomi in gravidanza? Raccontalo qui sotto. Ti aspetto in tutti i social.